Beh Lorenzo, immaginarsi una serata più bella di questa, palazzetto pieno, anche a testimonianza del terzo al suo patto, questa risposta della squadra era davvero difficile chiedere di più. Ma penso che era un qualche cosa che si meritavano, prima di tutto le giocatrici, poi tutta la nostra società, gli Sponso, Novara, la città di Novara, tutti i tifosi che stasera ci hanno spinto molto verso quello che sembrava un qualche cosa di impossibile, però siamo riusciti a concretizzarlo perché, come ripeto, penso che sia stata una vittoria di cuore, di testa, di determinazione affrontare una squadra così, vi garantisco che dopo la partita di domenica a Treviso, glielo ho detto ai miei, io so cosa vuol dire perché ho giocato nelle squadre che quando venivano a giocare contro non ce n'era per nessuno e ti senti frustrato, le ragazze sono state bravissime perché hanno saputo cancellare, resettare, recuperare quel poco di energia che c'era da recuperare per poi metterle in campo, poi con questo non è detto che sarebbe stato sufficiente, però era quello che ci eravamo promessi e penso che, come ripeto, è un giusto tributo alle giocatrici, alla città, agli sponsor, a tutto il mio staff, a tutti coloro che non si vedono ma lavorano dietro le quinte per mettermi a disposizione le giocatrici nel miglior modo possibile tutto e quindi penso che sia corretto che questa sera sia una grande festa, questa sera sia una grande festa.